Riapriamo il 2 di settembre, ripartono tutti i nostri corsi e l'attività nella sala cardio fitness quindi vi aspettiamo con tutte le nostre attività, qualche corso nuovo e qualche sorpresa. La sala cardio fitness che ovviamente è aperta a tutti dai 14 anni in su con programmi personalizzati fatti dai nostri istruttori, tutti laureati in scienze motorie i corsi sono aperti a tutte le fasce d'età, facciamo corsi pilates, posturale corsi di fitness, quindi diciamo che riusciamo a contentare un po' tutte le fasce d'età. L'attività motoria è sicuramente molto importante per rimettersi in forma e poi c'è tutto l'aspetto sociale dietro quindi per conoscere delle nuove persone per fare nuove amicizie, per stare in mezzo alla gente, questo è un ambiente molto familiare quindi sicuramente si presta tanto a questo tipo di rapporto. Abbiamo convenzioni con le forze dell'ordine, con l'azienda Ducati con il quartiere Borgoreno, con i dipendenti del quartiere Borgoreno. La modalità di pagamento per le nostre attività sono tante, da quest'anno abbiamo la possibilità di pagare anche con l'applicazione Satispay, c'è la possibilità di ratizzare gli abbonamenti annuali con il pago deal che è una modalità di pagamento dilazionato senza interessi e poi i classici pagamenti con contanti o carte.